Giovedì sera i carabinieri del nucleo radiomobile della compagna di Monopoli hanno arrestato una giovane di origini roma. Sorpresa la guida di un'auto ruvata nel Brindisino avrebbe tentato di darsi alla fuga ma è stata fermata sulla statale 16 dopo aver provocato un incidente all'altezza di Mola di Bari. Grazie.